È stata una partita fisica soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa la Samba ha fatto vedere qualcosa in più. Sicuramente c'era un gol regolare di fall, il secondo soprattutto, però uscite con appena un punto. Usciamo con un punto, una partita che era complicata, le condizioni del campo purtroppo l'hanno resa poco giocabile. Come hai detto tu, è stata una partita tanto fisica, dove ci sono stati molti duelli sulle seconde palle. Veramente difficile giocarla, non è una scusa assolutamente, anzi, potevamo anche fare di più, però è veramente complicato giocarla. Comunque un campionato che regala ancora delle partite, la speranza di poter agganciare la zona playoff resta intatta. Adesso ci sono cinque partite in 12-13 giorni, ci giochiamo tanto, lo sappiamo, siamo avvelenati perché volevamo cominciare questo filotto di partite con una vittoria. Purtroppo anche qualche episodio, secondo me, non ci è girato a nostro favore. Su tre almeno due, secondo me, sono netti. Il gol di Amet è il secondo, è un rigore su Luca. Però oggi siamo sicuramente arrabbiati anche per questo, ma da domani non c'è tempo più per pensare a questa partita e prepareremo quella di mercoledì. Grazie a tutti, grazie a tutti.